Nokia Lumia 610 tra le tante novità Nokia Transit, la nuova versione di Nokia Maps, la nuova versione di Nokia Maps è presentata questa mattina che sarà compatibile con tutti gli smartphone, tablet e computer, abbiamo un processore da 800 MHz Snapdragon, Windows Phone, versione 7.5 attualmente nonostante il processore non sia un top gamma è molto molto veloce e fluido, ben ottimizzato, prezzo 189€ e sarà inizialmente da aprile per il mercato cinese e poi da maggio per quello europeo molto reattivo, il foto abbiamo detto da 5 megapixel, il display è da 3,7 pollici per ora è tutto, prossimi aggiornamenti a breve da Techzilla